Lorenzo Sospiri, problematiche della sanità in vista del Consiglio regionale di domani e voi continuate a bacchettare pesantemente la maggioranza di governo proprio su questi temi così sensibili? Intanto domani ci sarà un Consiglio regionale dove cercheremo di stanare le previsioni tenute tutte nascoste dell'esecutivo d'Alfonso Paolucci e del PD. Dalle confessioni che emergono tra giornali e audizioni in commissione è chiaro che la provincia di Pescara che parte in questo ragionamento con tre presidi ospedalieri Pescara, Penne e Popoli se passassero le intenzioni dell'assessore si ritroverebbe solo con l'ospedale di Pescara con un bacino di 350.000 abitanti circa della provincia più ciò che convergerebbe, pensiamo solo al pronto soccorso di Pescara da Penne e Popoli, Ortona ed Atri. Quindi si sta disegnando di fatto la distruzione, l'implosione della provincia di Pescara. A questo punto quali possibilità ci sono affinché i due presidi di Popoli e Penne possano continuare a vivere? A me pare assolutamente semplice che in un territorio che ha 350.000 abitanti visto che il decreto Lorenzin si basa su bacini di utenza da 80 a 150.000 abitanti possano esistere tranquillamente due presidi, Penne e Pescara mentre Popoli che è il centro regionale di riabilitazione deve essere finalmente potenziato in questa sua vocazione e costruire un'organizzazione sanitaria insieme con il presidio di Sulmona e di Casteldisanglo.